Crediti fiscali, approvata nuova legge, novità nelle disposizioni per favorire la circolazione dei crediti con riferimento a Superbonus e Sismabonus, assistenza psicologica per gli alluvionati, presentata a Palazzo del Pegaso la seconda edizione del progetto Vivere Meglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con una maggioranza trasversale una proposta di legge per favorire la circolazione dei crediti fiscali con riferimento a Superbonus e Sismabonus. Hanno votato sì il PD, Fratelli d'Italia e i 5 Stelle. La Lega non ha partecipato al voto. La nuova legge prevede che gli enti economici regionali possano acquistare i crediti fiscali dalle banche a condizione di disporre di risorse economiche per poter far fronte, oltre all'acquisto, anche ai possibili rischi derivanti dall'operazione. Sentiamo le interviste. Ringrazio i colleghi per aver approvato e tutta l'Aula per aver approvato oggi la legge sui crediti inchagliati. È una risposta, seppur ci rendiamo conto parziale, consentitemi a una non risposta del governo. Ci sono tante aziende in difficoltà, tante imprese. Quella del Superbonus è stata davvero un pasticcio tutto italiano. Io mi auguro che in futuro, perché le politiche degli incentivi non potranno assolutamente terminare col Superbonus, c'è bisogno di efficientare il nostro patrimonio immobiliare, c'è bisogno di contrastare il cambiamento climatico, ma non possono essere i cittadini a farlo. Quindi abbiamo bisogno degli incentivi, ma incentivi inquadrati in un progetto industriale con una visione chiara di sviluppo e soprattutto non di continui cambi di normative su cui poi i cittadini si trovano a pagare e si trovano in difficoltà. Questo è quello che abbiamo provato a fare oggi. Sono molto orgogliosa che lo abbiamo fatto tutti insieme, anche al di là delle differenze politiche, perché quando i cittadini hanno bisogno la politica tutta ci deve essere e noi oggi ci siamo stati. Io penso che oggi sia stato dato un segnale estremamente importante da parte di tutta l'Aula. È stato fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge che finalmente consente anche alla regione toscana, attraverso le sue società partecipate, non tutte, di poter interloquire con il sistema bancario toscano e quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal Superbonus. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio, tutto questo perché vi era la necessità condivisa, direi a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore, quello dell'edilizia, che davvero si è trovato in estrema difficoltà. Di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che ha avuto effetti positivi, da una parte sulla crescita del Paese, ma dall'altra ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. È chiaro che l'intervento a tutto sondo del Governo in qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica, però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge perché oltre ad aprire a questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche della solubilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della Regione Toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui si rivelasse i crediti cattivi, ma in realtà questa è una possibilità che viene sì contemplata, ma che è scongiurata dal fatto che si tratta di crediti certificati e attestati. Quindi sono crediti buoni e in questo modo cercheremo anche, sotto questo punto di vista, di creare l'effetto virtuoso di liberare anche quelle risorse che acquisendo in pancia i crediti possano poi rimettere liquidità a sostegno del sistema economico. Quindi io credo che oggi, davvero anche come centrodestra, voglio dire, abbiamo dato un segnale importante per cui sui temi seri, concreti, siamo davvero capaci di esprimere anche delle scelte importanti e di proporci davvero in Toscana come forza di governo. La Lega non ha partecipato alla votazione di un provvedimento che riteniamo un pannicello caldo e alquanto confuso. Noi abbiamo fatto delle domande molto puntuali per quanto riguarda questa proposta di legge. Abbiamo chiesto quali saranno le società partecipate della regione toscana che potranno acquistare i crediti. Concretamente non c'è stata data risposta, se non è veramente molto confusa. Inoltre abbiamo chiesto se il fondo a garanzia del 20% sia sufficiente per garantire la regione toscana. Inoltre parliamo veramente di poco, di 5 milioni di euro, quindi veramente un pannicello caldo. E inoltre tengo a leggere proprio la scheda finanziaria la quale dice che la possibilità, la proposta di legge si sostanzia nella possibilità per gli enti pubblici, economici e regionali per le società partecipate della regione, che torno a ripetere non c'è stato risposto quali che siano, non inserite nelle amministrazioni pubbliche nell'elenco aggiornato ogni anno dall'Istat e di acquistare crediti fiscali dalle banche e quindi non dalle aziende, non dai cittadini, dalle banche. Quindi 5 milioni per le banche. In questo si concreta questo provvedimento che sicuramente può andare incontro a una esigenza che esiste, che è quella appunto dell'acquisto dei crediti e diritti, ma che non dà soddisfazione e che rimane davvero ben poca cosa. La regione toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti e con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. E lo ricordiamo ancora, il super bonus edilizio è stata una misura che l'Unione Europea intende ancora esportare e che, come loro stessi hanno detto, l'Unione Europea se fosse continuata avrebbe potuto generare una ricaduta economica molto positiva nel corso degli anni e soprattutto duratura. Purtroppo questo governo non era dello stesso avviso e ha preferito rovinare decine e centinaia di famiglie e aziende. Italia Viva non ha partecipato a questa votazione. Teniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria, e non è corretto far rischiare sulle finanze della regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi, in particolar modo di quella dei 5 Stelle, che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro Paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra regione. Molto rischioso per le finanze della regione toscana assumersi questa responsabilità e come tale non abbiamo partecipato a questa votazione e quando abbiamo visto che si tratta di una funzione, di una visione totalmente assistenzialista dove abbiamo visto varie forze politiche trovare invece una sintesi trasversale, la nostra concezione riformista e liberale ci ha portato a essere liberi di non partecipare a questa votazione. A Palazzo del Pegaso è stata presentata la seconda edizione di Vivere Meglio, promosso dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, che promuove l'accesso agli interventi psicologici per ansia e depressione. Obiettivo offrire assistenza alle persone che hanno vissuto gli ultimi eventi alluvionali in Toscana, Emilia-Romagna e nelle Marche. In qualità appunto di medico di medicina generale a Campi, quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà, proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengono ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Quindi questo è ciò che secondo me è ancora più importante e che sta dietro a questo importante progetto. Siamo quindi alla seconda edizione del progetto Vivere Meglio. Nella prima edizione è stato esteso il trattamento psicologico sul territorio nazionale con una partecipazione importante soprattutto da parte delle donne e delle fasce più giovani, quindi i giovani adulti in particolare. Ora nella seconda edizione, che è limitata alle zone che hanno subito eventi alluvionali nel novembre scorso, ci aspettiamo che di nuovo una popolazione femminile e giovanile, che sono tra l'altro anche state molto esposte a questo evento traumatico che è stato rappresentato dall'alluvione, possa avvalersi di questa risorsa. Un evento traumatico come l'alluvione, come in genere le catastrofi naturali, sono eventi che possono ovviamente rappresentare i veri e propri fattori di rischio per la salute mentale delle persone. Ovviamente questo non solo per l'evento nella data giornata in cui ha luogo il cataclisma, ma anche per tutti gli eventi successivi legati al disagio e alle perdite secondarie al cataclisma. Il nostro sistema antistress infatti è un sistema che funziona in maniera ottimale quando siamo esposti a un evento stressante e traumatico per un tempo breve, anche se molto intenso. Quando invece ci troviamo esposti a degli eventi che si ripetono nel tempo, che sono continuativi nel tempo, anche se magari di intensità decrescente o minore, ecco che questo ci mette in difficoltà. E quindi da qui l'importanza di fronteggiare gli eventi traumatici con il possibile disagio che essi possono scatenare attraverso processi e percorsi di cura. L'intervento è mediato da un portale che si chiama viveremeglio.empa.it per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini, fondamentalmente un servizio di screening psicologico che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e semmai anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita. Per le persone invece che abitano nelle province alluvionate offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli esiti di questo screening che facciamo online. Quindi il trattamento invece è dal vivo mediato peraltro dai medici di medicina generale di quei territori in questa fase. Per quanto riguarda la Toscana la nostra aspettativa è che siano soprattutto i giovani della fascia 20-24 anni e 25-29 anni a rivolgersi a questo tipo di progetto perché soprattutto dopo la pandemia e con il verificarsi anche dell'evento alluvionale ci aspettiamo che queste... no posso rifarla... ok grazie ok va bene devo ripresentare o vado? Allora per quanto riguarda la Toscana noi ci aspettiamo che il progetto coinvolga principalmente i giovani della fascia d'età 20-24 anni e 25-29 anni che già dalla precedente edizione del progetto sono state le persone che si sono rivolte maggiormente ai nostri servizi di sostegno psicologico per la prevenzione dei problemi di ansia e di depressione. Con l'evento dell'alluvionale che c'è stato a novembre questa fascia d'età viene particolarmente coinvolta rispetto a tutte quelle che sono la messa in crisi della progettualità e delle proprie relazioni familiari e sociali. La fascia 20-24 anni ad esempio si è trovata già a veder messa in crisi tutta una serie di eventi della propria storia di vita che sono caratterizzanti durante la pandemia hanno perso il diploma, hanno perso i primi anni in università, qualcuno la laurea perché l'hanno fatto tutti questi eventi online. L'evento alluvionale va ulteriormente a mettere in crisi la fiducia nel futuro e la sicurezza rispetto ai progetti futuri. Per quanto riguarda la fascia 25-29 anni a maggior ragione sono ragazzi che si stavano trovando a immaginare i propri progetti di vita adulta e che magari si stanno adesso trovando a dover o rientrare nelle proprie case con i propri genitori perché magari la loro casa è stata danneggiata dall'alluvione o magari si trovano nella situazione contraria, cioè si sono trovati a dover accogliere i propri genitori che magari hanno avuto le case danneggiate o addirittura i propri nonni. Tutto questo mettendo in crisi le relazioni sociali per come le stavano progettando. In questo modo con il sostegno a cui possono accedere attraverso il progetto Vivere Meglio possiamo andare a prevenire la cronicizzazione di fenomeni di ansia, depressione, di insicurezza in modo tale che possano riprendere a progettare la propria vita con maggiore serenità. Grazie per la visione! Grazie per la visione!